ci risiamo come tutte le mattine fortuna che c'è il mio frigo lei è mia moglie il mio televisore vabbè insomma quello di mio figlio la mia macchina del caffè il mio caffè si quello è proprio il mio computer e guai a chi me lo tocca ma una carizzo al papà mai il mio capo se non arrivo alle otto puntuali alla volta buona che mi licenzia separarmi dalle mie cose è sempre un trauma quando si accendono le luci vorrei tornare subito sotto le coperte ma tanto ci vediamo questa sera no synergy la mia casa le mie cose